Il tema del mio intervento è il rapporto tra magia e rivoluzione scientifica. Io penso che uno dei capitoli più interessanti per mettere a fuoco il tema di questo simposio, appunto il rapporto tra magia e scienza, sia proprio quello della rivoluzione scientifica. Per molto tempo la storiografia di impronta illuminista e positivista ha considerato la magia come una specie di residuo, come una specie di sopravvivenza del pensiero obsoleto e ormai sorpassato del Medioevo. C'è da dire che da ormai alcune decine di anni questa immagine della magia è stata completamente rivista. Sto pensando ad autori come Francis Yates, al suo testo Giordano Bruno e la tradizione ermetica, ad autori come Walter Pagel, ai suoi studi su Paracelso, su William Harvey, a tutta una schiera di studiosi italiani come Eugenio Garin, Paolo Rossi, Paola Zambelli, che hanno minato questa interpretazione tradizionale, si è constatato che ci sarebbe molta più magia nel Medioevo, cioè nel Rinascimento, che nel Medioevo. E quindi da questo punto di vista non sarebbe più possibile parlare di una sopravvivenza o di un residuo del pensiero magico in questo periodo. Io penso comunque che dobbiamo riconoscere senz'altro un ruolo importante alla magia. Da questo punto di vista credo che una frase che pronunciò Charles Anders Peirce, uno dei grandi logici della storia del pensiero occidentale, quando disse che datemi un popolo la cui medicina originaria non è intrisa di magia e di incantesimi e io troverò un popolo incapace di qualsiasi scienza. Al primo momento non capivo questa affermazione, mi sembrava un po' azzardata, però venendo da un logico come Peirce era un po' prudente. Oggi dopo aver letto questi testi, devo dire che mi risulta molto più intelligibile questa affermazione e anzi per certi aspetti anche condivisibile.